Il sportello è stato fatto ad occuparci di informazioni, comunicazioni e accoglienza dei pazienti. Oggi inauguriamo degli sportelli dedicati, lo sportello accoglienza che serve proprio per fornire informazioni sulla clinica oncologica a tutti coloro che afferiscono alla clinica stessa, ma che ha al suo interno lo sportello con due fake news per favorire la buona comunicazione. Lo sportello quindi fisico ma anche telefonico e anche virtuale e web. La meditation room invece è una stanza importante perché sappiamo che nell'ambito oncologico possono esserci momenti di difficoltà e allora un colloquio con un esperto, con un psicologo, la possibilità di un momento di raccoglimento in uno spazio pur piccolo ma comunque rilassante e non proprio ospedaliero potrebbe essere d'aiuto.